Non so cosa aspettarmi in realtà perché non ho mai partecipato all'evento del genere e sono felicissimo di venire slimato In realtà non sapevo nemmeno cosa volesse significare questo termine, molto onestamente però è bello confrontarsi, aggiornarsi che comunque qua le generazioni, nonostante io sia giovanissimo quasi si va avanti a passo da liere e quindi di conseguenza è bello aggiornarsi e speriamo bene che non mi slimmano A me? Ah sono io quello del... Dice che tocca anche ai cantanti essere slimmati, non so se si dica così Si si no si dice slimmati, slimeati Slimeati no io si Però spero di non essere io il prescinto Mi raccomando Abbiate pietà Abbiate pietà di me, di me, di lo stile Sono preso molto bene da questa situazione Comunque è un festival nuovo che non ci era mai stato in Italia e sono contento di farne parte Ma io mi trovo molto bene con i miei fan in generale perché ho dei fan pazzeschi e super energici e penso che saranno lì in prima fila a saltare come dei pazzi quindi ho un bellissimo rapporto con i fan in generale perché penso che sia quella motivazione in più per un artista Diciamo è importantissimo interfacciarsi ad un pubblico giovane come quello dello Slime Fest perché le canzoni appunto di denuncia presentate a un pubblico giovane creano comunque anche in un certo qual senso qualcosa di educativo e quindi per me è importantissimo educare le persone divertendole, facendo una musica che mi piace però proponendo anche dei messaggi positivi Ma ero di non essere slimmato Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao